Per il programma 2020 abbiamo una sorpresa per i nostri soci, nel senso che siamo stati abituati negli anni a presentare un volume tra i due omaggio, un volume diciamo così di fumetto italiano e un volume di fumetto straniero, laddove straniero era un fumetto solitamente americano o al massimo inglese, quest'anno siamo passati a un altro genere, tra l'altro molto oggetto nato in Italia, quello della BD, con un'opera, eccola qui, che si chiama Avant, sono due storie scritte e disegnate da Dan Iepes, che qui si firma Dan Iepes, perché Iepes è soprattutto noto per il suo lavoro in campo disneyano, è un volume credo straordinario dal punto di vista delle immagini e della capacità di Iepes di fare, di usare il tono noir e il tono comico contemporaneamente. Dicevo prima, noi diamo quattro riviste, vi ho fatto vedere prima quella, l'ultima del 2019, questa era la penultima, andiamo un po' indietro, qui c'era Colosso come protagonista, protagonista, questo era un numero dedicato a Wollywood, questo è un suo disegno di copertina, il primo numero del 2019, quindi infatti abbiamo fatto un po' un viaggio a ritroso, l'ha dedicato a Tarzan e questa è una bellissima copertina disegnata dal nostro Massimo Gamberi, che oltre a essere un bravissimo disegnatore, ha anche parte del nostro consiglio direttivo, così come lo sono molti, molti critici famosi, credo, del mondo del fumetto italiano. Meglio così? Meglio così? Siete divertiti? Ecco infine, quelle del 2018, questa era dedicata al Don Camillo naturalmente, della Renoir, questa era per i vent'anni di Topolino, questa ancora di Massimo Gamberi, dedicata ovviamente a Phantom, Massimo Gamberi, bisogna Phantom per la Fru australiana, vi ricordo, e questo, il primo numero del 2018, che è stato il primo della nuova serie praticamente della rivista Fumetto, con Giulia, disegnata da Marco Soldi. Naturalmente non c'è solamente attività editoriale, però attività editoriale porta naturalmente molto, comporta molto nel nostro lavoro, per esempio, come fuori busta rispetto all'adultazione sociale, alcuni anni fa abbiamo prodotto questo volume, monografia su Rino Albertarelli, oppure questo in occasione dei 50 anni di Storia del West, oppure ancora questo inedito in Italia di Savage di Gil Kane, o un catalogo dedicato a Giovanni Guareschi come protagonista non solo della cultura italiana, ma anche del fumetto italiano. Infine, tra i tanti altri, un volume dedicato alle copertine fatte da Hugo Pratt per le riviste argentine.